Buongiorno e benvenuti a questa edizione del telegiornale, edizione delle 13.30 di oggi, 8 marzo 2020, buongiorno dalla redazione. Allora siamo in diretta ovviamente oggi, eccezionalmente anche trattandosi di domenica, siamo in diretta per aggiornarvi sulla questione coronavirus ovviamente. Innanzitutto partiamo dandovi la notizia, l'aggiornamento del numero dei casi di coronavirus e purtroppo anche la notizia di un nuovo decesso. Il decesso che riguarda un uomo, quindi siamo al settimo, sette persone decedute, un decesso che è avvenuto all'ospedale regionale di Torrette di Ancona, si tratta di un uomo di 83 anni con gravi patologie pregresse. E dunque questo è il dato. Poi si registra una correzione in difetto dei casi positivi, dovuta a due procedure di retest che hanno consentito di passare dai 274 tamponi positivi, comunicati questa mattina, ai 272. Quindi abbiamo anche noi pubblicato e riferito che i casi di coronavirus positivi nelle Marche erano questa mattina 274. In realtà l'aggiornamento è di 272. Quindi 7 persone decedute, 7 morti e 272 invece positivi in tutta la regione Marche sino a questo momento. C'è stato un aumento, chiaramente anche se in difetto di due, ma ricorderete ieri erano 200 i casi positivi, oggi 72 in più. Dunque c'è stato un aumento esponenziale di questi contagi. L'altra notizia rilevante invece è sicuramente quella che riguarda il decreto, il decreto che è stato firmato la notte scorsa dal Premier Giuseppe Conte e che inserisce la provincia di Pesero e Urbino in un'area con restrizioni importanti insieme ad altre province e alla regione Lombardia. Su questo si sta discutendo molto, su questo si stanno facendo domande alle quali, lo diciamo subito, non è possibile dare risposte in questo momento. Nel senso che per la maggior parte ci sono, ma per altre bisognerà ancora aspettare qualche ora. Si sta ragionando, si sta dando una interpretazione di questo decreto che sia corretto e dunque bisogna avere un attimo di pazienza. E quindi con questa pazienza noi adesso andiamo avanti con il telegiornale e cerchiamo di spiegarvi nel migliore dei modi un po' quello che succederà da qui al prossimo 3 aprile. Allora, innanzitutto abbiamo detto che questo decreto limita certamente le possibilità di movimento nelle zone più colpite dal coronavirus. Dunque le 14-15 province italiane inserite nel decreto, tra cui Pesero e Urbino e la regione Lombardia. Il Premier Conte ha detto non è un divieto assoluto, ha spiegato. Sarà possibile quindi muoversi per lavoro, per emergenze e motivi di salute. Questo è importante per cercare di capire un attimo come comportarsi e cosa fare. E ha detto anche il Premier Conte di non fare i furbi, parliamoci in maniera molto chiara, un po' come si è fatto fino adesso. Complice anche alcune dichiarazioni un po' sprovvedute di scienziati che hanno ridotto questo coronavirus a una semplice influenza o poco più. Sono dichiarazioni che hanno fatto del male e ci hanno portato probabilmente a questa situazione. Il Premier Conte ha anche detto che la Polizia potrà fermare i cittadini e chiedere loro perché si stiano recando, si stiano spostando nei territori più a rischio. Dunque si tratta in pratica di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori. Poi faremo tutti gli esempi che servono. La misura, efficace da oggi, 8 marzo fino al 3 di aprile, rispetto alle bozze di questo decreto che sono circolate ieri, anche noi ieri sera abbiamo pubblicate sui nostri siti, vengono allargate dunque da 11 a 15 le province interessate e viene ammorbidito il testo che disponeva di evitare in modo assoluto ogni spostamento in quei territori. Un po' come è avvenuto fino a ieri a Codogno, per esempio, dove tutti dovevano rimanere a casa e non si poteva muovere nessuno. Quindi, lo ripetiamo ancora una volta, vengono fatti salvi gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative. Quindi se il vostro datore di lavoro vi deve mandare a Rimini, il vostro datore di lavoro vi dovrà rilasciare un foglio, un certificato, dove certifica che voi siete dipendenti di quella ditta che ha sede in Pesaro, Fano o comunque in provincia di Pesaro Urbino e che per motivi di lavoro dovete recarvi a Rimini, Ancona, Roma e in qualunque altra parte del territorio. Oppure situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute. Ad esempio, se io devo andare a trovare la mia fidanzata a Senigallia, chiaramente non è bene che questo avvenga. Meglio stare a casa perché non meglio. È bene che si stia a casa, non meglio. È obbligatorio stare a casa perché andare a trovare la fidanzata non è un'emergenza. Se devo andare invece a Pesaro a trovare mia mamma che non sta bene, è chiaro che ci posso andare. Deve essere un po' comprovato tutto quanto. Il mancato rispetto, attenzione, degli obblighi del decreto può essere punito con l'arresto fino a tre mesi e fino a 206 euro di ammenda. Il prefetto, che i sindaci stanno in qualche modo ascoltando, interpellando costantemente, lo si farà ancora nella giornata di oggi, a mezzogiorno c'è stata anche una riunione della sala operativa integrata, la Soia, Pesaro. Il prefetto assicura l'esecuzione di queste misure, nonché ne monitora l'attuazione da parte delle amministrazioni competenti. E dove occorre, si avvale anche delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo di vigile del fuoco, delle forze armate, comunicazioni del Presidente della Regione e quant'altro. Ora, Lino Balestra ha preparato un servizio che riguarda appunto queste nuove norme. Ora, riascolterete più o meno le cose che io vi ho detto in apertura, ma siccome l'esperienza ci dice che bisogna ripetere almeno 100 volte prima che entri nella testa di qualcuno, noi lo ripeteremo anche 200. Quindi adesso, nel servizio che vi stiamo per proporre, risentiremo un po' quelle che sono le nuove norme approvate questa notte e che, leggevo qualche secondo fa, sono già pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. E dunque è legge. Approvato il nuovo decreto del Consiglio dei Ministri per le misure urgenti di contenimento del contagio nella Regione Lombardia e altre province affette da Covid-19. Nella misura rientra anche la provincia di Pesaro e Urbino, diventata zona rossa. Il nuovo decreto, varato ieri notte, presentato dal Premier Conte, pone diverse misure di restrizione, tra cui evitare lo spostamento delle persone fisiche in entrata e uscita dai territori delimitati da zona rossa, ad eccezione per gli spostamenti per motivi di salute e per esigenze lavorative di necessità. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37 gradi è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, divieto assoluto di mobilità della propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena, ovvero risultati positivi al virus, sospesi eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici e privati. Il decreto prevede anche la chiusura degli impianti sciistici, sospensione di tutte le manifestazioni organizzate in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico. Sospesi inoltre i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese anche le università. Ferma anche la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, ad esclusione dei corsi per medici in formazione specialistica e medicina generale. Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18, con obbligo a carico del gestore di predisporre condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Sono consentite anche le attività commerciali diverse della ristorazione, a condizione che il gestore garantisca un accesso ai luoghi con modalità idonee e evitare assembramento di persone. Sospese inoltre le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali e culturali. Il decreto sarà valido fino al 3 aprile prossimo. Il servizio è stato realizzato da Francesco Salvago. Allora, in molti ci stanno chiedendo, ma posso spostarmi da questo posto a quest'altro? Ci saranno dei posti di blocco? Ci saranno delle limitazioni in questo senso? Ci sono... Ora, sono tutte domande che anche noi abbiamo rivolto e stiamo rivolgendo anche alle persone, alle autorità competenti. Se ne sta discutendo il prefetto, come avete sentito dal decreto, ha l'autorità in questo senso. Chiaramente non sono previsti, lo diciamo subito, dei posti di blocco, però dobbiamo fare conti sempre con l'Italia furbetta, quella che ne approfitta, e allora non ci mettiamo comunque la mano sul fuoco. Per il momento non sono previsti. Che cosa si può fare allora? Che cosa succederà? Ce lo spiega adesso Lino Balestra, che è collegato con noi dal Ponte Metauro. Perché il Ponte Metauro, Lino? L'abbiamo mandato al Ponte Metauro perché questo è un punto... non è al confine, certamente con Senigallia, con la provincia che non è zona, chiamiamo così, zona rossa, ma è un punto di passaggio notevole. Allora, Lino, faccio anche tu un po' il quadro della situazione. Sì, buongiorno a tutti. Allora, noi siamo venuti qui con l'operatore Filippo Pucci in una delle porte d'accesso della città di Fano. Come giustamente hai detto tu da studio, non è il confine della provincia tra Pesaro e Ancona, però comunque è un varco d'accesso della città e potrebbe essere, nell'eventualità che il prefetto disponesse comunque dei blocchi, come è avvenuto a Codogno, in altre zone del Milanese, potrebbe essere un punto monitorato dalle forze dell'ordine. Va detto che al momento questo non è nell'essere. Abbiamo sentito anche i carabinieri e le forze di polizia poco fa e ci hanno detto che ad oggi, quindi ad ora, alle 13.44, non era arrivata a nessuna disposizione. Però loro hanno il compito di sorvegliare e che i cittadini adempiscano a questa disposizione del decreto del Presidente del Consiglio. Quindi loro sono autorizzati, come avete spiegato bene anche da studio prima, a chiedere il perché ci si sposta. Ora, territori, chiariamo anche questo aspetto, perché molti dicono, vabbè, il territorio qual è? È chiaro che tra Sant'Orso e San Lazzaro, oppure a Gimarra, ci si potrà spostare. Per territori, l'interpretazione che viene data al momento, ripeto, almeno dal prefetto, stando alle ultime informazioni che abbiamo, si intende comune. Quindi, all'interno dei territori, il prefetto interpreta tra comune e comune. Quindi, come giustamente hai detto tu, se io devo andare a trovare la fidanzata a Pesaro, no, il territorio è un altro. Quindi, ci si appella un po' anche al buon senso dei cittadini, perché questa è una misura che è stata fatta proprio per evitare che ci siano travasi di persone che potrebbero essere potenzialmente positive con comunità o con situazioni che invece non lo sono. Questo è il senso del decreto. Quindi, si vuole evitare questo. Le forze di polizia sono autorizzate a verificare che questo avvenga e è possibile che ci siano anche queste verifiche da parte della polizia. Siamo qui proprio per questo, perché forse questo potrebbe essere un punto in cui ci potrebbero essere dei controlli. Controlli che al momento non sono disposti. Questo lo diciamo. Quindi, la circolazione, come potete vedere, è regolare. Non c'è nessuna pattuglia di nessun tipo. E quindi, in questo momento, ci si può spostare come sempre avviene. Vero è che comunque l'entrata in vigore del decreto pone limiti ben precisi che sono stati elencati anche nel servizio. Al momento documentiamo questo, che non c'è nessun blocco, come avviene a Codogno o in altre zone, però comunque le forze di polizia potrebbero monitorizzare e chiederci anche il perché ci stiamo spostando all'interno del territorio. Quindi, questo è. Ricordo, come avete detto anche voi, che vige il codice penale, l'articolo del 650, citato proprio nel decreto che abbiamo qui in questo momento e che stiamo analizzando come tutti quanti, più o meno, stanno facendo in questo periodo, l'articolo 650 del codice penale prevede proprio la mancata osservazione del decreto, del dispositivo e quindi la denuncia e anche l'arresto, cioè quello che prevede il codice 50. Quindi le forze di polizia applicherebbero questo articolo del codice penale, il 650 con i suoi commi derivati. Quindi, questo è, al momento, non c'è altro su questo aspetto, quello della mobilità, che è un aspetto importante, saliente, forse il più significativo del decreto e quindi vi faccio anche sentire l'appello del sindaco Massimo Seri che ha riunito il COC questa mattina alle 9 e un quarto proprio per fare il punto della situazione, analizzare, vedere un po' quello che è il contenuto del decreto. Il sindaco Matteo Ricci ha fatto una giunta straordinaria e quindi le comunità si stanno un po' organizzando per interpretare appunto il decreto e cercare di applicarlo nel migliore dei modi. Quindi noi siamo andati lì al COC e abbiamo registrato proprio l'appello che il sindaco Massimo Seri ha rivolto ai suoi concittadini proprio in queste ore. Quindi vi faccio sentire l'appello e poi la linea può ritornare allo studio. Sì, il messaggio che mi sento di dare e il messaggio che do anche a me stesso siamo collaborativi, comprendiamo il valore di questo provvedimento senza allarmarci troppo perché dobbiamo dare il giusto nome e il giusto valore alle situazioni. Però i nostri comportamenti nel cercare di contenere questa epidemia è fondamentale proprio per le ragioni che dicevo prima. Quindi senza esagerare nella preoccupazione ma siamo responsabili collaborativi comportiamoci da comunità nell'interesse di ognuno di noi. Ecco, questo dunque l'appello del sindaco di Fano Massimo Seri che ha, come ha detto poco fa a Balestra convocato il centro operativo comunale per rileggere, rivedere analizzare, studiare un po' questo decreto che, lo ripetiamo, è stato firmato nella notte a notte fonda praticamente dal presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. Allora, a Pesaro invece a Pesaro il sindaco Matteo Ricci ha tenuto una conferenza stampa la indetta di Frettefure insomma in Piazza del Popolo e ha detto questa è la peggiore emergenza dal dopoguerra ad oggi. Poi, come sempre ha invitato tutti a mantenere la calma ecco qui l'immagine di Matteo Ricci che sta parlando ad un microfono agli avventori alle persone che erano lì in Piazza del Popolo questa mattina. Mi sono già lamentato all'inizio di come è stata esistita a questa notte. Dico che il nostro compito in questo momento è fidarci di quello che ci dicono fare quello che ci dicono rispettarlo farlo rispettare i cittadini collaborare. poi le valutazioni anch'io la penso per molti aspetti come lei però le valutazioni non aspettano a me in questo momento in questo momento noi dobbiamo cercare di far seguire l'indicazione a tutta la comunità e di dare il più possibile le informazioni corrette. abbiamo un mese davanti a noi più saremo collaborativi prima usciremo da questa situazione ma ha ascoltato l'intervento di Ricci in diretta sempre il nostro Francesco Salvago che dovremmo avere al telefono in collegamento telefonico Francesco buon pomeriggio allora ciao che cosa ha detto Ricci dunque allora Ricci ha tenuto una serie di incontri appunto con il prefetto dice che c'è una confusione di governo fatta ieri con la bozza del decreto c'è una difficoltà di tenere ferma la gente non siamo in una zona rossa dice il primo cittadino questa mattina è stata definita insieme al prefetto una zona arancione ci si potrà muovere per motivi di lavoro anche fuori dalle zone della provincia sempre mantenendo dunque le regole previste dal decreto resteranno aperti gli enti pubblici le attività commerciali bar e ristoranti saranno aperti fino alle ore 18 e non si potranno fare consegne da sport dunque a domicilio il dubbio rimane appunto per i centri commerciali non è chiara quella è la normativa espressa dal governo dice Ricci per quanto riguarda il movimento dei cittadini l'invito è quello di muoversi il meno possibile ci si può muovere all'interno del comune di appartenenza liberamente invece se si esce fuori ci sono appunto delle limitazioni la scuola come è stato detto verrà chiusa fino al 3 aprile e questo provocherà anche dei problemi dei disagi anche del nucleo familiare per la gestione appunto dei figli a carico dovrà uscire dice Ricci un congelo familiare ovvero uno dei due genitori potrà appunto restare a casa ma questo è del tutto in via sperimentale intanto una cosa è certa domani uscirà un decreto economico per le aziende dove sarà richiesta la liquidità da parte appunto delle imprese in difficoltà per quanto riguarda la situazione sanitaria stanno cercando di liberare posti in terapia intensiva dunque aumentandoli sempre di più per la richiesta dell'utenza situazione mai vista prima ha detto Ricci bisogna fidarsi della scienza ognuno di noi deve essere responsabile e poi l'appello che rivolge alla comunità di Pesaro bisogna evitare il panico mantenere la calma e soprattutto invita a tutti a restare uniti non si esclude appunto un secondo anche colloquio con il prefetto previsto nel pomeriggio dove saranno appunto divulgate ulteriori comunicazioni in diretta web e questo è tutto Bene grazie grazie Francesco stanno arrivando una valanga di messaggi anche qui in redazione di persone che svolgono le più disparate attività dalla gelateria alle farmacie all'estetista a qualunque genere possibile immaginabile fanno domande del tipo domani posso lavorare chiaro che si può lavorare per i bar i ristoranti le attività pubbliche vale l'accortezza di tenere il metro di distanza tutte quelle disposizioni di cui abbiamo sempre parlato nessuno ha parlato di chiudere le attività lavorative fatta eccezione invece per i centri commerciali quelli grandi oggi Fano Center a Fano a Bellocchi ha chiuso la galleria ma il supermercato Spazio Conad per esempio è aperto questo allo stato attuale cioè adesso mentre stiamo andando in onda alle 13 e 53 minuti poi abbiamo visto è una situazione che evolve di ora in ora gli stessi sindaci hanno bisogno di delucidazioni perché hanno necessità di rispondere alle esigenze alle istanze dei cittadini quindi nel pomeriggio avranno altri incontri anche noi rimarremo in collegamento con tutte le nostre le nostre fonti per cercare di avere e di informarvi correttamente su quello che prevede appunto questo decreto per non incorrere a problemi quindi tutti possono andare a lavorare domani chi può produca un certificato per dire che se si deve spostare da un punto all'altro è perché lavora in quel momento e non va semplicemente a fare una passeggiata e se lo dimostra senza problemi non può andare tranquillamente a lavorare senza nessun senza incorrere nessun nessun problema di sorte insomma senza andare contro contro la legge poi abbiamo detto dalle 18 bar e ristoranti chiusi questo lo prevede il decreto c'è scritto nel decreto quindi immagino che bar e ristoranti alle 18 dovranno in qualche modo chiudere certo si fa fatica anche mentalmente razionalmente a pensare a un dispositivo così stringente di questo genere però questa è la situazione ci fa strano pensare ma sarà davvero così cioè alle 18 ci sarà il coprifuoco signori questa è un'emergenza sanitaria e questo dobbiamo affrontare per perché ancora c'è qualcuno che si domanda perché tutto questo cinema se è poco più di un'influenza intanto abbiamo capito che non è per niente vero che è poco più di un'influenza e abbiamo adesso capito un'altra cosa importante che il nostro sistema sanitario nazionale regionale è quasi al collasso nelle aree chiaramente dove c'è questa epidemia dove c'è questa emergenza poco fa la notizia che il sistema sanitario regionale sta reggendo ma bisogna contenere il numero dei contagi perché se aumenta quello di conseguenza aumenta anche la necessità di posti letto di terapia intensiva e non sempre come succede anche al nord in una regione che a livello sanitario funziona molto bene come la Lombardia non sempre ci sono posti sufficienti e la Lombardia in questo momento è in grande sofferenza ecco perché è necessario contenere il più possibile e ognuno di noi deve fare lo sforzo deve impegnarsi a fare bene il cittadino il bravo cittadino per evitare che questo sistema vada al collasso anche perché dico una cosa banale ma è bene ricordarlo non c'è solo il coronavirus non ci si ammala solo di coronavirus se c'è qualcuno che ha bisogno di andare ha bisogno della rianimazione e non ci sono posti letto è un problema e adesso il prossimo servizio è sul centro operativo comunale il COC il famoso COC che ha attivato questa mattina il sindaco Seri vediamo un decreto del Presidente del Consiglio quello che non possiamo più permetterci la diffusione del contagio e di sovraccaricare le strutture sanitarie dei territori più colpiti pertanto con coraggio ma con determinazione e fermezza abbiamo elaborato questo decreto in sintesi è questa la motivazione che il Premier Conte ha espresso nella conferenza stampa in tarda nottata da Palazzo Chigi dove presentava il provvedimento alla stampa il decreto è operativo da subito quindi da oggi e questo ha messo in moto tutta la macchina organizzativa delle comunità coinvolte nel nostro caso l'intera provincia questa mattina per delineare le operatività il sindaco di Fano Massimo Seri ha convocato il centro operativo comunale per analizzare il decreto in tutte le sue parti e anche le modalità della sua applicazione l'obiettivo l'obiettivo di questo provvedimento è quello che le persone si muovano il meno possibile per evitare che ci siano contaminazioni l'obiettivo è questo fortunatamente il virus non è di quelli micidiali però qui c'è un tema e dobbiamo tenerlo ben presente qui viene richiesto un senso di responsabilità a tutti al di là delle normative dei divieti o collaboriamo tutti e anche i singoli comportamenti delle persone diventano importanti per l'insieme della riuscita del contenimento il tema vero è quello di andare incontro alle esigenze dei nostri sanitari che sono al collasso perché i casi aumentano e le strutture ricettive non sono in grado di ospitare un numero eccessivo di situazioni qui devo dire un grazie veramente di cuore a tutti gli operatori sanitari medici infermieri che stanno facendo un lavoro straordinario senza sé e senza conturni massacranti perché anche gli organici causa positività o quarantene si sono ridotti e qui devo dire c'è anche una capacità di rigenerarsi giorno dopo giorno anche nell'organizzazione per creare sempre maggiori posti letto soprattutto per le rianimazioni anche tutti quei cittadini che non comprendono queste cose che magari vedono dei riparti spostati non facciano sterile polemica che non serve a nulla ma comprendono la situazione e il lavoro che stanno facendo quindi è in affanno perché effettivamente la situazione è pesante ma c'è una risposta importante data con grande senso di responsabilità professionalità e direi in molti casi mettendo il cuore oltre l'ostacolo intanto la prima informazione ci tengo a dirla tutti coloro che sono fuori anche all'estero per motivi di lavoro che devono rientrare a casa è possibile quindi questo è garantito e ci stiamo attrezzando anche per aiutare quelle persone che sono in difficoltà perché non dimentichiamo che in queste situazioni ci sono persone che vivono anche in solitudine in una casa abbiamo anche creato un numero ad hoc una task force che va a aiutare le persone che sono sole quindi il COC è permanentemente convocato perché dobbiamo essere operativi dare le giuste risposte alle domande che ci arrivano ma soprattutto dare applicazione a questo provvedimento che va nell'interesse di tutta la comunità allora questo di nuovo l'intervista del sindaco Massimo Seri allora chiudiamo questa edizione del telegiornale parlandovi anche di quello che è successo oggi questa mattina alle 10 c'è stata come sapete le cerimonie religiose le sante messe sono sospese tutto questo capita in un periodo che per i cristiani per i cattolici è un momento forte sono tempi forti perché siamo in quaresima e quindi è una prova anche questa e questa mattina alle 10 abbiamo trasmesso in diretta dalla chiesa di San Tommaso ovviamente a porte chiuse la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Fano Trasarti vediamo stop anche ai matrimoni funerali cresime comunioni la diffusione del coronavirus ferma anche le cerimonie civili e religiose nella provincia di Pesaro Urbino così come altre province diventate zone rosse la decisione di vietare cerimonie civili e religiose è stata presa in considerazione dal governo dopo l'episodio successo a San Marco in Lamis in provincia di Foggia dove è morto un 75enne risultato positivo al coronavirus dopo i funerali che si sono svolti alla presenza di centinaia di persone dopo il nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri dove impartisce il veto di assembramenti di persone tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi il Vescovo della Diocesi di Fano Fossombroni Cagli e Pergola Armando Trasarti ha celebrato una santa messa dalla chiesa di San Tommaso a porte chiuse in diretta sul canale 17 di Fano TV un momento per tutta la Diocesi di unione con il Vescovo nella preghiera e nell'ascolto della parola di Dio poter vivere come comunità cristiana di questo territorio la speranza e la consolazione che viene dalla fede invito a tutti a vivere ha detto Trasarti con coraggio serenità e fiducia questa situazione di emergenza che ha creato e crea paure e smarrimento per la problematica sanitaria il Vescovo ha assicurato anche la vicinanza della preghiera quanti sono colpiti ai loro familiari agli anziani esposti più di altri e ai medici agli infermieri e agli operatori sanitari va la gratitudine al loro prezioso efficiente servizio poi un pensiero del Vescovo rivolto al mondo del lavoro ai giovani ai giovani e ai ragazzi del mondo della scuola vorrei ricordare che questo non è tempo di vacanze prolungate ma di impegno nello studio a casa in maniera individuale e con tutti i mezzi che la scuola stessa potrà offrire la preghiera dice Trasarti si può svolgere creando spazi in casa da soli insieme alla famiglia momenti di ascolto della parola leggendo e meditando un salmo il Vangelo del giorno tutti dice possiamo valorizzare questa quaresima anche senza le celebrazioni delle messe il digiuno è tempo prezioso per rinnovare scelte di coraggio assumendo uno stile di sobrietà la quaresima giunge tempo di più forti impegno di carità verso i fratelli i poveri conclude il Vescovo in questa emergenza non sono scomparsi ma sono ancora più bisognosi del nostro aiuto l'emergenza coronavirus ha posto dei limiti anche in Vaticano l'Angelus e l'udienza generale di Papa Francesco è stata svolta in diretta streaming i fedeli non hanno potuto partecipare alle messe celebrate dal pontefice ma solo attraverso gli schermi di piazza San Pietro e restiamo un attimo a San Pietro soltanto perché il Papa ha pregato l'Angelus come ha appena detto Salvago dalla biblioteca apostolica collegato con la televisione e anche con un po' di fedeli sparsi in piazza San Pietro e ha detto sono un Papa ingabbiato sentite cari fratelli e sorelle buongiorno è un po' strana questa preghiera dell'Angelus di oggi col Papa ingabbiato nella biblioteca ma io vi vedo vi sono vicino torniamo per chiudere prima di chiudere il telegiornale con collegarci in diretta con Lino Balestra perché a Lino volevo chiedere di nuovo di rifare ma brevemente di rispiegare un attimo Lino la questione dei movimenti delle limitazioni delle persone tra comune e comune perché siamo sommersi di messaggi che chiedono nello specifico sono in multa non sono in multa e allora vogliamo per cortesia grazie Lino rifare un attimo il punto sì allora il punto della situazione è questo noi come anche altri organi tra cui appunto il sindaco e un po' anche altre persone che stanno analizzando in questo momento il decreto abbiamo recepito quello che è l'articolo 1 che appunto pone al punto A il punto cruciale di cui stiamo appunto disquisendo ovvero lo spostamento all'interno dei territori allora noi lo leggiamo testuale così l'interpretazione non lascia alcun dubbio perché dice evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo quindi richiamo la nostra provincia nonché all'interno dei medesimi territori salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute quindi spostamenti sì per comprovate esigenze lavorative sì spostamenti per ragioni di salute ed è consentito anche il rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza per chi si trovasse in questo momento fuori all'estero per motivi di lavoro per motivi di vacanza o per altro che non poteva certo prevedere questa decisione del governo quindi a coloro che sono fuori per svariati motivi si può rientrare all'interno del territorio ma l'interpretazione data dal prefetto a quello che noi sapevamo fino a una mezz'oretta fa era che per territori si intende il territorio comunale quindi ribadiamo tra Sant'Orso Fano e Gimarra ci si può spostare senza problemi però comunque se io devo andare a Pesaro o se devo andare a Urbino o se devo andare in un'altra area comunale all'interno della provincia devo comunque giustificare il perché lo sto facendo questo è un dato importante perché comunque è probabile che nelle prossime ore saranno chiamati a vigilare su questo aspetto proprio le forze dell'ordine su diretto mandato del prefetto che è la massima autorità sul territorio e che è emanazione del governo e quindi lui potrà allertare forze di polizia carabinieri finanza l'esercito vigili del fuoco polizia locale naturalmente perché questa disposizione venga applicata ridico come ho detto prima e come avete richiamato anche da studio che i trasgressori sono penalmente perseguibili perché vige ed è proprio all'interno del decreto che noi abbiamo qui e che stiamo leggendo il richiamo all'articolo 650 del codice penale con i suoi comma e sotto comma quindi c'è proprio una disposizione precisa che le forze dell'ordine nel caso fossero chiamate a verificare questa osservanza possono applicare quindi se io vado a Pesaro o vado a per dire Senigallia nel peggiore delle ipotesi senza avere un valido motivo e polizia mi becca mi prende mi trova e io non so giustificare secondo quelli che vi ho elencato prima i motivi io sono denunciato sono denunciato e la mia fedina penale si va a far benedire perché ci sono tre mesi di reclusione penso adesso a memoria penso che sia questo e una sanzione pecuniaria quindi non è una barzelletta non è uno scherzo bisogna rimanere nei propri ambiti perché questo è lo spirito dell'ordinante del decreto e c'è appunto un richiamo fortissimo a osservarla perché se tutti facciamo un po' come ci pare a noi lo scopo che è quello appunto di evitare la commistione tra persone che potenzialmente potrebbero essere portatrici di positività e persone che non lo sono va a farsi benedire di conseguenza il provvedimento non ha la validità che si vuole che si vuole avere perché è un provvedimento di estremo rigore di estrema fermezza soprattutto perché ci si è arrivati ad oggi ma ci si è arrivati e quindi questo si vuole far osservare per cui ribadiamo al momento come vedete non ci sono forze di polizia che presidiano gli accessi della città ma loro saranno chiamati a verificare che questo venga fatto per cui loro se sono sul territorio e verificano che qualcuno fa come gli pare lo denunciano questo ci è stato detto molto chiaramente per cui questo è allo stato attuale più chiari di così penso che non si possa essere insomma bene grazie allora a Lino Balestra giusto un panino e poi di nuovo operativo perché abbiamo l'edizione delle 20 e 30 di questa sera nella quale cercheremo di ancora essere più precisi e di seguire tutta questa faccenda gli aggiornamenti di essere di nuovo sul pezzo come si dice grazie allora a Lino Balestra Filippo Pucci Francesco Salvago Stefano Bagnesi tutti i collaboratori dalla regia di Riccardo Sora questa era guerra poi chi abbiamo di là non so se mi diventa Giacomo Vitali chiaramente Giacomo Vitali ecco allora grazie a tutti per l'attenzione vi ricordo che abbiamo deciso di utilizzare Telegram che è un'applicazione che potrete scaricare sui vostri cellulari sia Apple iPhone eccetera eccetera potete scaricare l'applicazione di Telegram perché abbiamo deciso di utilizzare Telegram per aggiornarvi in tempo reale quando dico tempo reale significa che se la fonte è certa la prendiamo e la battiamo subito la ribattiamo subito se invece va verificata ovviamente prima la verifichiamo e poi la battiamo su Telegram e poi passa questa notizia anche sul sito internet la televisione e quant'altro e sui social quindi è davvero un ottimo servizio già più di 1500 persone si sono unite a questo nostro canale che si trova appunto su Telegram basta cercare occhio a una notizia e quindi credo che sia un ottimo servizio poi tra l'altro distribuiamo anche i vari documenti il decreto l'abbiamo trasmesso subito su Telegram così come tutte le comunicazioni del Gores che arrivano in tempo reale quindi credo che sia molto importante e utile per essere chiaramente informati per tutto il resto come dicevo ci vediamo stasera 20 e 30 qui sul canale 17 di Fano TV grazie per averci seguito e a più tardi grazie per averci seguito